Solo dalla Nigeria, che peraltro è un paese molto ricco di materie prime, di cervelli, che noi conosciamo purtroppo in Italia perché i nigeriani controllano lo spaccio di droghe e la prostituzione. Non è la Nigeria vera, questi sono i delinquenti. Noi quest'anno per il momento in Nigeria ne abbiamo rispediti 125. Negli ultimi due anni ne sono arrivati 60.000. Lei capisce che con questi ritmi il suo pronipote intervisterà il mio pronipote dicendo a che punto è l'accordo con la Nigeria. Io sono uno un pochino più testardo, voglio chiudere entro l'anno un accordo serio con la Nigeria di cooperazione che costa, non c'è niente di gratis. Qua io ho un bellissimo progetto che stiamo facendo con alcuni privati, progetto per l'Africa, non a parole, che mi dice che io con 8 euro e mezzo al giorno garantisco scuola, sanità, futuro e lavoro a un ragazzo in Africa. 8 euro e mezzo, non i 35 euro al giorno per bivaccare qua in stazione. Su questo lavoreremo, in Gambia, in Mali, in Costa d'Avorio. Noi stiamo citando dei paesi che sono interessati a tenersi loro. E bisogna farlo addossalmente. Bisogna dargli dei soldi. Non li mandano via, li vogliono tenere. Bisogna dargli dei soldi e bisogna in cambio di questi soldi fare un accordo di riammissione o di espulsione, non di due alla volta.